Lo stesso modo, c'è chi è fatalista? Eh beh, se deve succedere, c'è chi è pessimista. Tanto andrà malissimo. E poi c'è chi ha nuova Tiguan. Il futuro? Tutto sotto controllo. Nuova Tiguan 1.6 TDI con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, mantenimento attivo della corsia e rilevatore della stanchezza di serie. Solo a giugno tu ha 26.500 euro. Scoprila in tutte le concessionarie. Info su volkswagen.it. Abituatevi al futuro. Ganna, sono chieda. C'è d'oro, toghi te le scarpe che il trato è pulito. Il mondo è la nostra casa. Sei il bel di Santa Clara. Liegone per certi con la tiglia vegetale. Che spettano l'unione per il futuro dei nostri kit. Efficaci per Santa Clara. Il bel di Santa Clara. Ciao. Sono Maria, della regimitoria in Piale della Libertà, Messina. Sono qui per darvi una notizia straordinaria. Il jackpot di Superinanotto continua a salire. Ha già superato i 60 milioni di euro. Prova a vincerlo.